Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Lei è mamma Pig. E lui è papà Pig. Peppa Pig. La festa della scuola. Oggi è il giorno della festa della scuola. A Peppa piace molto andare alla festa. Questi sono gli amici di Peppa. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit e Pedro Pony. Ciao a tutti amici. Ciao Peppa. Mi piace tanto la festa della scuola. Anche a me. Che ti piace di più? Farmi truccare la faccia. A me piacciono i palloncini. La cosa che mi piace di più è il castello incantato. A me piace proprio tutto. È davvero un'ottima scelta, Peppa. Ci vediamo dopo, Peppa. Sì, a più tardi. George, a te che cosa piace di più? Dinosauro. Oh, perbacco. Non ci sono dinosauri alla festa, George. Forse possiamo prendere un palloncino con un dinosauro. Sei sicuro che ci siano palloncini con quella forma, papà Pig? Sì, ne sono certo. Io e George possiamo farci truccare la faccia prima. Naturalmente. La signorina Rabbit ha truccato da tigri gli amici di Peppa. Ecco fatto, Susy. Ora sembri una tigre. Grazie, signorina Rabbit. Caspita, mi piace molto questo trucco, Susy. Che cosa sei, un gattino? No, io sono una tigre. Peppa, per caso vuoi che trucchi anche te? Sì, grazie. Posso essere un bel elefante? Perbacco. Non so come si fa un elefante. Io so fare le tigri. Sì, sì, una tigre. Ecco fatto, Peppa. Ora sei una tigre. Sono una tigre. George, a te cosa piacerebbe essere? Dinosauro. Un dinosauro? Che ne dici di una tigre, invece? Sono brava a fare le tigri. Sono una tigre. Anch'io. Guarda che le tigri non abbaiano. E tu come lo sai? Perché le tigri sono dei grossi gatti. E io sono un gatto. Gatti. Candy, ti prego, ci insegni a fare le tigri. Va bene. Le tigri avanzano molto, molto lentamente. E poi... Balzano. Alle tigri piace lavarsi leccandosi così. Ma la cosa più bella è che quando le tigri sono contenti fanno l'infusa. Ciao, piccoli. Oh, mamma mia. Siete tutte tigri. E io sto insegnando loro come si fa ad essere una tigre. Allora, piccoli tigri, che cosa volete fare? Dinosauro. Giusto. Cerchiamo un palloncino con un dinosauro per Giorgio. Prendiamo dei palloncini per tutti. Evviva! Buongiorno, signora. Vorremmo dei palloncini, per favore. Ma certamente. Potete scegliere. Ce n'è per tutti i gusti. Posso avere quello con l'elefante, per favore? Ecco a te, Peppa. Io vorrei quello col canguro. Un leone, per favore. Una signa, per favore. Un pappagallo, per favore. Oh, eccovi ho accontentati tutti. E ora la cosa più importante. Ci serve un palloncino con un dinosauro per Giorgio. Oh, per bacco. A dire il vero, non mi pare di avere dei palloncini con i dinosauri. Oh. State a piedi, Giorgio. Mi è venuta un'idea. Potrei avere due palloncini lunghi, per favore? Ecco, ora state a vedere. Che cosa sta facendo Papà Pig con i palloncini? Fatto. Riuscite a indovinare che cos'è? Per caso è un canguro? Oh, no. È un... Dinosauro. Esatto. È un dinosauro. Papà Pig ha fatto un dinosauro con i palloncini. Dinosauro. Andiamo al castello incantato. A Peppa piace saltare sul castello incantato. Piace a tutti saltare sul castello incantato. Alla prossima.